Dal ritorno in panchina di Fabrizio Castori, il Perugia ha tenuto un ritmo da zona playoff. Sono sette i punti raccolti dal Grifo nelle ultime cinque partite, meglio dei biancorossi, hanno fatto soltanto Frosinone, Pisa, Regina, Como e Ascoli. Al sesto posto di questa speciale classifica delle ultime cinque partite di Serie B, ecco il Perugia, insieme a Sud Tirol, Brescia e Palermo. Il Castori Bis è iniziato con il successo di Reggio Calabria, poi sono arrivati la debacle interna contro il Cittadella, il KO immeritato di Frosinone, il positivo pareggio di Modena e la convincente vittoria contro il Genoa. Insomma, la crescita più volte sottolineata dal tecnico biancorosso si è tradotta in risultati. E se è vero che il Grifo è ancora ultimo, è altrettanto vero che adesso la salvezza diretta dista quattro lunghezze. Ora il calendario mette davanti ai biancorossi una serie di scontri diretti prima della conclusione dell'anno e del girone d'andata. Cosenza, Spal, Cagliari, Venezia e Benevento, cinque sfide che potrebbero sovvertire i destini di un Grifo che si è dimostrato più vivo che mai. Intanto, Jefferson Pass e Marco Olivieri sono stati inseriti nella top 11 della Lega di Serie B riferita alla quattordicesima giornata di campionato. Dopo Sgarbi, Bartolomei, Gori e Di Carmine, quindi anche altri due giocatori del Perugia, entrano nella formazione ideale pubblicata nei canali social della Lega.